Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Oggi registriamo con lo Zoom H4. Negli ultimi due anni, insomma, che ormai sono diventati tre, visto che siamo a dicembre, hanno spopolato i servizi di streaming, le piattaforme di streaming. Cioè queste piattaforme, che, previo pagamento, ci consentono di vedere una marea di film, la maggior parte delle quali sono scadenti, mentre alcuni sono delle belle chicche, tipo, insomma, quelli famosi, va, Il Gladiatore, Alien, Vento di Passioni, Balla coi lupi, eccetera, eccetera. Quando io ero piccolo, uscì questo film, Gattaca, o Gattaca, un film strano di fantascienza, ricordo solo questo da piccolo, strano e di fantascienza. Qualche giorno fa ho deciso di vederlo. Accidenti. Posso solo dire questo. Accidenti. È un film del 1997, con Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law. Peraltro è in questo film che Ethan e Uma si sono conosciuti, innamorati e sposati, quindi è grazie a questo film. Il film è un film di fantascienza, thriller e distopico, scritto e diretto da un certo Andrew Nichol, che poi vedremo chi è, al suo debutto, quindi è stato il suo primo lungometraggio. Ma abbiamo anche altri attori famosi, come Alan Harkin, che non è Alan Larkin, non è Larkin. E abbiamo anche quello che fa Monk, che queda talmente giovane e diverso, che sembrava quasi interessante come aspetto, sembrava molto bello Monk. sedi che io odio, per questo dico. Il film, ragazzi, è particolare. Gattaca, che è un gioco di parole con la sigla del DNA, G-A-T-C. G-A-T-C. Adenina, guanina, citosina e tiamina. Timina, timina, sì, sì, sì. Quindi noi abitiamo in questo fittizio paese, città, struttura, credo sia la fabbrica, Gattaca, che si occupa di viaggi nello spazio. Ma il film è in un non troppo lontano futuro, dove le persone, tutte le nascite, tutte, possono essere geneticamente selezionate. Ormai fare figli trombando, cioè naturalmente, è indisuso, non è più gradito, non è più scelto. Perché tu puoi andare in un centro e chiedere che tuo figlio venga fatto esattamente come lo vuoi tu. Lo vuoi alto? Lo vuoi biondo? Lo vuoi col pisellino grande? Cioè tu puoi scegliere tutto. E quindi ragazzi, in un mondo dove tu puoi scegliere la genetica di tuo figlio, ormai più nessuno fa i figli alla vecchia maniera. Quindi si suppone anche che nel mondo distopico di Gattaca le cose sono due. O come dire, nessuno fa più l'amore, ecco. Oppure lo si fa soltanto per puro piacere. Non lo si fa per, come dire, per necessità. Lo si fa per piacere. E qui abbiamo una coppia. Una coppia che si ama e che quindi decide di fare un figlio d'amore. I bambini che venivano concepiti alla vecchia maniera venivano chiamati figli di Dio, bambini di Dio, god child. Perché? Perché ragazzi, quello era il modo in cui si facevano i figli, no? Fino a un po' di tempo fa. Mentre tutti quelli normali, innormali, vengono fatti in provetta. E qui abbiamo, come vi dicevo prima, una coppia che ha deciso di fare un figlio alla vecchia maniera, alla maniera di Dio. Tuttavia, quando nel mondo di Gattaca un bambino nasce, possiamo decidere subito, cioè scopriamo subito se questo bambino avrà una vita buona o sfigata. Lo si scopre subito. Appena il bambino nasce, loro analizzano il sangue e quindi la genetica di questo bambino e possono scoprire subito quale sarà la sua aspettativa di vita, le sue malattie, eccetera, eccetera. Perciò, quando nasce Vincent Freeman, peraltro il cognome Freeman, uomo libero, quando nasce Vincent, proprio nella stessa sala di parto, gli viene subito diagnosticata una deficienza del cuore. Quindi è malato di cuore. Di conseguenza Vincent, subito, da neonato, gli danno un'aspettativa di vita di circa 30 anni. Quindi questa coppia che vuole fare un bambino, si amano, fanno un bambino e il primo genito gli capita difettoso. E allora, subito, no, subito, no, circa due anni dopo, decideranno di fare un figlio normale, alla maniera moderna, cioè un figlio controllato geneticamente, Anton. Quindi abbiamo Vincent e Anton. Anton è più alto, è più bello, non ha problemi fisici, non ha problemi genetici, cardiaci e stupendo. Anton è tutto quello che non è Vincent e Vincent è tutto quello che Anton non sarà mai. I due fratelli spesso giocavano al gioco del pollo, cioè andavano a nuotare in mare aperto e il primo che aveva paura tornava indietro a riva. E ovviamente Vincent perdeva sempre. Vincent aveva anche un sogno, voleva andare nello spazio, perché a quanto pare nel futuro di Gattaca si va nello spazio senza problemi. Perciò Vincent non potrà mai aspirare a fare grandi lavori. Numero uno, perché non ha una genetica favorevole. Numero due, perché la sua aspettativa è di 30 anni, quindi si deve togliere dalla testa di fare chi che sia, qualche sia. Perciò gli viene assegnato il lavoro di pulizie. Vincent fa le pulizie nell'impianto di Gattaca, quindi l'impianto dove la gente va nello spazio. E lui ogni giorno guarda i razzi partire, sperando che un giorno lui sarà là. Quelli come Vincent, cioè quelli con una genetica non favorevole, vengono chiamati invalidi, oppure degenerati. Eh? Gene? Eh? Degenerati. Cosa molto furba devo dire, rende sia in inglese che in italiano. Ma a un certo punto, con l'aiuto di gente del sottobosco, gente poco legale, Vincent, pagando soldi presumo, decide, anzi sì, decide di comune accordo con l'altra persona, di prendere in prestito l'identità di un altro, Cioè di Jude Lowe, ovvero di Jerome Morrow. Cosa succede? Questo signor Jerome Eugene Morrow, che è Jude Lowe, è sulla sedia a rotelle, perché ha avuto un incidente, è stato investito da una macchina, mentre era a piedi, quindi è stato investito, e da allora non può più camminare. La cosa curiosa di Jerome Morrow è che nonostante lui avesse una genetica perfetta, un destino perfetto, tant'è vero che quella persona, il tramite illegale, dice ha un cuore perfetto, credo che dica massimo 120 battiti, ha un'aspettativa di vita illimitata, non morirà mai, è un toro, potrebbe sfondare i muri correndoci contro, eppure è sulla sedia a rotelle. Eugene Morrow, nonostante appunto questa genetica perfetta, è amareggiato, perché lui non è mai arrivato primo, sempre secondo, in qualsiasi cosa, nello sport, nel lavoro. E allora, di comune accordo, Eugene cede la sua identità a Vincent, quindi Vincent non esiste più. Adesso abbiamo due Eugene Morrow, quello che non vediamo mai, sulla sedia a rotelle, e quello che va a lavorare, che è Vincent con l'identità camuffata. Ogni mattina, vivono insieme ovviamente, vivono insieme perché Eugene ha una casa gigantesca, ogni mattina Vincent si fa una doccia, si fa lo scrub della pelle, si fa lo scrub dei capelli, cioè togliendosi qualsiasi capello morto, si rade la barba, si taglia le unghie, e Eugene gli fa la cortesia di fargli una pisciatina e un'estrazione di sangue, che lui porta sempre con sé. Ovviamente Vincent ha le impronte digitali di Eugene e lui fa questo ogni mattina per evitare di lasciare pezzi di sé, del vero sé, in giro al lavoro. Quindi lui dissemina le finte prove di Eugene, pelle, capelli, unghie e persino se serve sangue e pipì. Il sogno di Vincent è di andare su Titano, per ora c'è Callisto Protocol e noi abbiamo Titano, perché è una delle lune di Saturno, perché lui vuole cazzo andare nello spazio. A un certo punto un amministratore di Gattaca, chiedo scusa, sono sicuro che lo sto dicendo sbagliato, quindi ogni tanto dirò Gattaca, ogni tanto Gattaca, così accontentiamo tutti. Un amministratore di Gattaca viene trovato morto e a un certo punto cominciano le indagini. Scava che ti scava che ti scava, i poliziotti, gli investigatori, stanno rischiando di trovare le prove di Vincent. Anche perché forse è Vincent che ha ucciso l'amministratore, perché lo aveva scoperto. E allora sul luogo abbiamo un detective anziano, Alan Narkin appunto, e un detective più giovane, alto, spalle larghe, i capelli perfetti. Insomma ragazzi, ve la stringo. Il poliziotto alto e giovane è Anton, il fratello sperduto di Vincent. Siccome Anton aveva capito che quello era suo fratello che si era spacciato per un valido, lo vuole non catturare, lo vuole incontrare. Ma al tempo stesso Anton depista gli altri investigatori perché se lo trovano... Ora, noi non sappiamo nel mondo di Gattaca cosa succederebbe agli invalidi, ai degenerati, ma come minimo lo licenzierebbero, lo arresterebbero, quindi il sogno di andare su Titano sfumerebbe. Perciò Anton lo vuole trovare mentre cerca di depistare. Il film ragazzi è stupendo, è stupendo perché comunque vediamo un uomo, Vincent, che cerca in tutti i modi di ingannare la società della genetica perfetta in vari modi, è molto divertente, riuscendoci peraltro, per fortuna. E poi abbiamo Jerome, che invece dovrebbe avere la genetica perfetta, ma di fatto non è mai arrivato primo, sempre secondo. Peraltro lui rivelerà che si è buttato sotto la macchina di proposito. Jerome voleva morire, non è stato un incidente, lui si voleva ammazzare, ma non ce l'ha fatta. Anton finalmente incontra Vincent e gli dice tu non dovresti essere qua, tu non hai i requisiti, non hai la genetica, come hai fatto? Come hai fatto a ingannare la macchina? Come hai fatto? Come hai fatto? E Vincent perché io me lo merito, perché io sono più forte di te. E allora da adulti al buio di notte Anton e Vincent si sfidano di nuovo al gioco del pollo, se ne vanno a mare e Anton gli vuole dimostrare che è lui il più forte dei due. Ma di fatto stavolta Vincent vince. Vincent aveva già vinto una volta quando erano piccoli, ma Anton non l'aveva mai detto alla famiglia che Vincent l'aveva salvato. Quindi di fatto Vincent vince due volte, una da giovani, da adolescenti e una da uomini adulti. E allora Anton gli chiede come hai fatto a vincere l'altra volta e come hai fatto a vincere questa volta e Vincent gli risponde lo sai perché? Perché per me poteva essere l'ultima volta. La mia aspettativa di vita era di 30 anni. Vincent non aveva nulla da perdere. Ecco perché si spinse dopo Anton vincendo la sfida del pollo a mare. il mio status non mi definisce. Scopriamo che non era stato Vincent ad ammazzare l'amministratore, era stato l'altro amministratore perché quello morto voleva cancellargli il progetto. Quindi scopriamo che Vincent non è un assassino, meno male. Cosa succede ragazzi? Vincent intanto si lega sentimentalmente ad Irene, Irene, che altri non è che Uba Thurman, scopriamo che il dottor Lamar che è un attore famoso peraltro aveva subito capito che Vincent non era Eugene Morrow e lo sapete perché? Il dottor Lamar l'aveva scoperto perché nessun destrorso fa la pipì tenendosi il pene con la mano sinistra. Quindi il dottore aveva capito subito che Vincent era farlocco ma siccome anche il dottor Lamar aveva un figlio non valido un degenerato cioè un figlio di Dio concepito naturalmente era dalla sua parte voleva vedere se Vincent ce l'avrebbe fatta e in effetti contro tutte le aspettative genetiche di vita e del destino Vincent ce l'ha fatta riesce ad andare su Titano infine vediamo una scena dove Eugene Morrow quindi Jude Law dopo ore giorni che non si vedeva più aveva raccolto abbastanza sangue e abbastanza pipì per Vincent che ti dureranno due vite due vite e infine il sacrificio finale Eugene Morrow si brucia vivo perché non poteva lasciare tracce del suo cadavere cosicché Vincent diventa l'unico Eugene Morrow e Vincent dice per qualcuno che non sarebbe mai dovuto essere a questo mondo devo confessare mi viene un po' difficile andarmene perché lo sta andando appunto su Titano tuttavia si dice che ogni atomo del nostro corpo un tempo faceva parte di una stella allora io forse non me ne sto andando forse sto tornando a casa ragazzi il film è uno spettacolo uno spettacolo che affronta temi come il transumanesimo e l'eugenetica cioè dovremmo favorire o sfavorire una persona in base a come è nata quello che in realtà vorrebbero fare adesso il film ha ricevuto una nomination agli Oscar per miglior art direction non ho idea di produzione comunque roba tecnica un Academy Award il film ragazzi come vi ho già anticipato credo di avervelo già anticipato perché il video l'ho tagliato in due parti quindi ho scortato cosa ho detto prima è il primo lavoro di Andrew Nichol neozelandese di 58 anni quindi se lui è nato nel 64 e il film è del 97 aveva 33 anni porca puttana ed Andrew Nichol è quello anche che ha scritto The Truman Show che ha girato e scritto Simon l'intelligenza artificiale Lord of War In Time The Host Good Kill e Anon diciamo che ha una filmografia abbastanza scarsa ma ha fatto due capolavori Gattaca e Truman Show che dire ragazzi il film è geniale è stupendo tratta delle tematiche serie e anche un pizzico giallo se vogliamo perché tu comunque patteggi per Ethan Ock perché speri che lui ce la faccia ad abbattere le barriere dell'eugenetica cioè speri che lui ce la faccia perché se lo merita non perché era destinato a farcela perché lui ce l'ha messa tutta e Jude Law per una volta non fa una parte antipatica ragazzi vedete Gattaca perché è un film che ti fa quasi sognare è un film sognatore purtroppo ragazzi è un film che non ebbe un grande successo o meglio piacque tantissimo però cadde velocemente in sordina non so per quale motivo onestamente io mi ricordo che quando uscì io me lo ricordo fece un grande successo è costato 36 milioni e in America in America ne ha guadagnati 12 che è ovviamente pochissimo tuttavia ragazzi attenzione anche se non ebbe un ottimo successo di soldi piacque moltissimo alla critica e niente ragazzi non ho altro da dire quando i film sono belli o ne parlo tanto o possiamo chiuderla qua da Vespertili è tutto vedetevi Gattaca perché è un film che è passato in sordina ma merita tantissimo subito Gattaca ci vediamo ragazzi ma n***a Gattaca grazie